Ho detto che non voglio più parlare del caso CiccioGamer, Romics, Brioche o Nutella perché sarebbe lucrare su tutta questa faccenda e gigantirla ancora di più e finire nella macchina del fango che si è venuta a generare in cui tutti ne parlano, tutti macinano visualizzazioni su questa cosa e non voglio farlo, però sarebbe da stupidi non dare valore agli spunti di riflessioni che ha generato. Ad esempio, uno dei commenti non direi più intelligenti che mi sono stati fatti ma comunque più interessanti è stato, perché ci lamentiamo tanto di questo atto dell'attacco a CiccioGamer quando ci sono prank che fanno molto peggio? Per quanto sia un discorso del cazzo che mi ricorda il tanto amato Corona non dovrebbe stare in galera perché c'è gente che ha fatto peggio e sta fuori, come se la soluzione fosse far uscire un delinquente invece di farne entrare altri, il concetto di fondo non è sbagliato, è lecito fare prank anche di cattivo gusto, anche pesanti in nome dello spettacolo? Quello che mi sono chiesto è stato, se invece di etichettarlo come attacco fossero usciti immediatamente e avessero detto che la brioche o la Nutella era un semplice prank che era stato ripreso per metterlo su YouTube, come avrebbe reagito la gente? Avrebbe ancora una volta mostrato solidarietà con CiccioGamer o avrebbe detto che ancora di più aveva reagito in maniera troppo esagerata? Sono abbastanza convinto che ormai il è un prank, è uno scherzo, è un esperimento sociale, siano tutte maschere che vengono indossate per compiere gesti che altrimenti non potresti compiere perché la gente ti saccagnerebbe di botte. E abbiamo accettato in maniera inconscia questa cosa dicendo che se è uno scherzo va accettato e tanti saluti. Ora, i prank non sono una cosa nata su YouTube, esisteva già da tanto tempo, esisteva già addirittura nella televisione italiana con scherzi a parte, insomma ci sono tanti programmi di questo tipo. Ma qual è la differenza tra un prank di uno YouTuber e scherzi a parte? Partendo dal presupposto che a me scherzi a parte fa cagare, ha sempre fatto cagare, I scherzi che venivano fatti venivano fatti in un ambiente controllato, con persone controllate, vuol dire che il rischio di far venire un coccolone a una persona o che reagisse in maniera scomposta era abbastanza limitato. Invece i prank hanno la piena libertà, fanno il cazzo che gli pare e esagerano tantissimo, ma di questo ne parleremo tra poco. Come del fatto se effettivamente l'attacco a CiccioGamer fosse un'aggressione o meno, cosa di su cui abbiamo dibattuto un sacco negli ultimi giorni. Quello che voglio fare prima di parlare dei prank e delle conseguenze illegali che possono avere è fare una distinzione importante su due termini che invece vengono utilizzati comunemente come sinonimi, ovvero esperimento sociale e prank. Lo vedo scritto nei titoli, scorreggiare addosso la gente è un esperimento sociale? No, perché l'esperimento sociale è un genere di video in cui simulando una situazione estrema, spesso, andiamo a mostrare la reazione comune delle persone in modo da far riflettere. Se io simulo un'aggressione per strada per far vedere come reagiscono i passanti, questo è un esperimento sociale. Se io fingo di picchiare la mia ragazza per vedere se gli altri intervengono, questo è un esperimento sociale. Scorreggiare addosso la gente per vedere come reagisce non è un esperimento sociale. Sembra che ci sia una linea sottile che li separa, ma in realtà è un confine ben delineato con torrette di guardia, ovvero l'esperimento sociale è qualcosa che vuole far riflettere, il prank è qualcosa che vuole far ridere. Potremmo disquisire un sacco di tempo sull'effettivo valore di questo tipo di comicità, ma non sono qui per questo. Sono qui per dire, è lecito fare quello che ci pare in nome di un prank e in nome delle visualizzazioni? Prima di parlare dei prank in generale, parliamo velocemente dell'aggressione di CicciaGamer, in modo da toglierci il lente e non parlarne più. Quella di CicciaGamer è stata un'aggressione? Sì, è stata un'aggressione, perché l'aggressione non prevede per forza danni fisici o psicologici. Infatti, secondo l'articolo 581 del codice penale, si parla di aggressione con percosse quando la vittima non riceve danno fisico o psicologico. Ed è un reato, ci tengo a sottolinearlo, è un reato che solo in caso di querela da parte della vittima può portare fino a 6 mesi di reclusione e a circa 300 euro di multa. Il fatto che poi non venga presentata una querela, perché giustamente ti hanno tirato una brioche, quindi anche se è stato un gesto di cattivo gusto non sporgi querela e in questa cosa è stato sensato, anche se non viene presentata querela, il gesto rimane comunque un reato. Rimane un reato che non può essere perseguito perché ha bisogno di una querela. Ora, parliamo dei prank. Innanzitutto non voglio etichettare l'intera categoria di prank come qualcosa di sbagliato, illegale o canceroso, quello che volete. Io personalmente di pranker seguo solamente il magic rat, perché quello che fa video, forse l'avete visti, in cui fa gli scherzi ai fast food, ovvero si maschera lui stesso da sedile della macchina con una particolare imbottitura e finge che nella macchina non ci sia nessuno per far vedere le reazioni dei fast food. E i commessi regiscono in maniera esilarante e la cosa è divertente, non c'è nessun danno, non c'è nessun affanno, tanti saluti. Ci sono altri tipi di prank, ad esempio quello del clown assassino, quello del ragno, quello di quello lì ultimamente che si veste da musulmano e poi va in giro tirando o uno zaino alla gente e poi scappando, o portando un agnello con candelotti di mamita sopra e lasciandolo dietro la gente. Ci sono questi prank qui. Ora, qual è il discorso? A parte il fatto che trovo abbastanza di cattivo gusto fare delle ironie, fare questo genere di scherzi, in un momento in cui l'allarme per il terrorismo è talmente alto e la gente ha paura di uscire di casa, a parte questo, questi prank qui sono reati. Ora, prendiamo lo scherzo del clown o anche quello del terrorista. Se ti fanno scherzo di giocanare a una persona e non sei in un ambiente controllato, non puoi sapere se magari quello ha problemi di salute, problemi cardiaci o se soffri di ansia, non puoi sapere che reazione può avere di fronte a quella situazione. In questo caso puoi finire in due guai, ovvero, metti che quello viene un infarto. Se ci muore, te puoi essere accusato di omicidio, senza scherzare. Se non ci muore, puoi essere comunque accusato di aggressione, anche se non c'è contatto fisico, è comunque aggressione. Se quello gli scappa e chiama la polizia e la polizia interviene, ed è solo uno scherzo, te hai commesso il reato di procurato allarme. Infatti il reato di procurato allarme, secondo l'articolo 658 del codice penale, è quando generi un'allarme nelle autorità o nelle persone che esercitano una carica di autorità. In questo caso la polizia, oppure se quelli chiamano un'ambulanza, o quello che sia, è comunque un procurato allarme. Quindi, togliendo il fatto che la maggior parte dei video prank o scherzi su YouTube sono finti e orchestrati, coloro che fanno veri video prank, devono ricordarsi che non tutto è perdonato il nome delle visualizzazioni, e che non si devono sentire giustificati solo dal fatto che vengono seguiti da delle persone che sono YouTuber. Ricordate che siete comunque perseguibili legalmente, non siete migliori o superiori a nessun altro, e capiterà sicuramente la volta in cui trovate lo stronzo a cui girano le palle, e che reggerà in maniera sbagliata, e o vi ammazza, o vi porta in tribunale. E io, poi, ovviamente parlo per me, ma cercherei di evitare entrambe le cose. E io, poi, ovviamente parlo per me, ma cercherei di evitare entrambe le cose.